Asili e ben lungi dal placarsi la polemica sull'accesso ai servizi nel Comune di Arezzo dopo il passaggio in consiglio della proposta con i punteggi legati alla salute dei nonni. Già attaccata da Valentina Vaccare e Donella Mattesini del PD che l'hanno tacciata di demagogia, la vice sindaco Lucia Tanti risponde ferma Io non so dove vive il PD ma trovo veramente irriverente considerare un nonno sano e in buona salute una penalità. Una volta la differenza era tra Sparta che buttava giù dalla rupe i disabili e Atene. Oggi è tra noi che guardiamo alle disabilità e agli anziani con l'occhio della cura e il PD che ormai è il partito stronca nonni. Ognuno si collochi dove meglio si trova. Dal consiglio regionale incalzano i consiglieri PD Ceccarelli e De Robertis. Sulle graduatorie ai servizi di prima infanzia il Comune di Arezzo rischia di penalizzare tante famiglie di essere pregiudiziale e discriminatorio perché se un nonno è in buona salute il punteggio viene penalizzato in quanto in grado di assistere i nipoti. Chiediamo al Presidente Gianni di verificare se le modalità previste dall'amministrazione comunale a retina possano costituire pregiudizio per l'accesso ai sostegni economici disposti dalla Regione in favore dei Comuni per l'accoglienza delle bambine e dei bambini nei medesimi servizi e in favore delle famiglie dei servizi a titolarità comunale. Se comunque ciò non costituisse pregiudizio chiediamo se la Regione non ritenga opportuno raccordarsi con Anci Toscana per concordare criteri uniformi per la formazione di queste graduatorie così da favorire l'accesso ad agevolazioni regionali.